Ieri, a seguito del completamento dell'attività di formazione del personale vigile volontario e dell'assegnazione degli automezzi, il Comando di Cagliari ha avviato l'apertura operativa del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Carloforte Isola di San Pietro. La sede, per il momento, avrà copertura operativa di urna nell'arco della giornata, orario previsto 8.20, con un organico rappresentato da due unità operative permanenti di cui un qualificato con compiti di ROS, responsabile delle operazioni di soccorso, è un autista di terza categoria, abilitato alla condotta dell'APS, l'autopompa serbatoio. Il restante personale di squadra, almeno tre unità, è rappresentato da personale vigile volontario, formato nei due corsi di formazione organizzati recentemente dal Comando. A completare la struttura operativa, una campagnola modulo, automezzo dotato di un modulo antincendio, le cui ridotte dimensioni potranno consentire la percorribilità nelle stradine interne dell'abitato del paese. La sede operativa, messa a disposizione dal Comune di Carloforte, è recentemente riadattata e ubicata in via dei RAIS. Per la richiesta degli interventi di soccorso tecnico urgente a Carloforte, isola di San Pietro, sarà necessario chiamare il numero di soccorso provinciale 115, dove risponderà la SO 115, la sala operativa provinciale dei vigili del fuoco, che ha competenza per l'intero territorio provinciale.